SIC, società italtecnica Cesena. Da 30 anni specializzate in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC e a Cesena, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, con un'esperienza ultradecennale nella consulenza e nello sviluppo di servizi informatici, è HP Platinum Partner. Infotech, da sempre, propone tecnologie innovative in ambito server e storage. Workstation e PC, garantendo un servizio di assistenza tecnico-sistemistica rapido e affidabile. Infotech propone l'ufficio efficiente e green. Affidati a noi installando le nuove multifunzioni HP PageWide a zero emissioni di polveri sottili. Mettiti comodo. Infotech troverà la soluzione giusta per te. www.infotech.it Frigoriferi industriali. Soluzioni all'avanguardia. Nella refrigerazione industriale. Mentre l'incidenza e l'indice RT inizia a calare in tutto il territorio nazionale, rimane la questione degli studenti in DAD. La vaccinazione tra i più giovani non decolla in Emilia-Romagna e sono molte le classi in quarantena in tutta la regione. Si torna a parlare di Bolkenstein con i rappresentanti delle associazioni balneari che attendono il momento per confrontarsi con il governo sul tema della riassignazione delle spiagge. Urgente la definizione dei bandi che saranno utilizzati in questo processo. Tra dieci giorni dovrebbero concludersi lavori di riqualificazione del viadotto Kennedy a Cesena, dopo una serie di ritardi e rinvii. Il blocco del traffico sul viadotto è fissato fino a 7 febbraio, data che segna la ripartenza della circolazione delle vetture. Dopo un'attesa durata diversi anni, il governo ha approvato le modifiche al registro unico delle opposizioni necessarie per bloccare le chiamate moleste ai numeri fissi e cellulari. Servono ancora un paio di passaggi però perché la legge sia effettiva. Crescono nel territorio della Camera di Commercio della Romagna, fuori Cesena e Rimini, il numero delle aziende. I dati, diffusi da Infocamere e Movimprese, sottolineano un netto recupero dopo un 2020 fortemente segnato dalla pandemia. Calcio nel lunch match domenicale, il Cesena ospita l'Olbia. William Viali avrà a disposizione qualche volto nuovo e confida nella voglia di rivalsa dei propri uomini per tornare alla vittoria dopo il pari con la Viterbese. Questo è il telegiornale della Romagna, in studio Francesca Leoni. Una buona serata a tutti e benvenuti alla nuova edizione del nostro OTG. Parliamo dell'incidenza e l'indice RT in apertura che cominciano a scendere in tutta Italia. A segno che il picco del Covid sta passando e la situazione comincia lentamente a migliorare. Rimane difficile però la gestione delle scuole, dove ci sono molti casi, diverse classi in dadde e il tracciamento è ormai saltato. Vediamo. Da un lato c'è la vaccinazione tra i più piccoli che non decolla, dall'altro i numeri di contagi nelle scuole che aumentano. La vera emergenza ora si sposta proprio negli istituti bolognesi, secondo il report dell'Ausl dalla ripresa delle lezioni il 7 gennaio fino al 23. Poco più di due settimane in cui i casi segnalati sono stati 6.457. Per l'esattezza 2.160 alle primarie, il 33,4% del totale, e 1.784 alle superiori, il 27,6%. Meno i positivi alle medie, con 1.251 casi, ma sono meno numerosi anche gli alunni. Infine i più piccoli, 877 alle materne, 403 bimbi positivi nei nidi. La maggioranza dei casi, il 53%, scrive nel suo report l'azienda sanitaria, è stata segnalata nelle scuole dell'infanzia e primarie, con testi meno protetti dalla pratica vaccinale a maggior rischio di comportamenti promiscui. Per questo motivo, spiega l'Ausl, alla luce dell'elevata quantità di casi da gestire, i tracciatori hanno poste maggiore attenzione alla classe di età 0-10 anni. Per ciò che riguarda le quarantene, dal 7 al 23 gennaio sono stati invece emessi 7.947 provvedimenti, concentrati all'infanzia e alle primarie, dove bastano sostanzialmente uno o due casi positivi per mandare tutti a casa, e dove la tensione è più alta, visto che i bimbi vaccinati e vaccinabili sono ancora pochi. Numeri importanti che hanno messo in difficoltà anche i pediatri, stretti tra il cambio continuo dei protocolli e la gestione sanitaria di un numero crescente di casi. In generale, la sintomatologia per i bambini resta contenuta, ma aumentando numericamente i casi, ovviamente aumentano anche le complicazioni. Quindi crescono tra i più piccoli casi di long covid, sindrome infiammatoria multisistemica e miocardite. Intanto, sia a livello nazionale che a livello regionale, si continuano nel tentativo di semplificare le procedure burocratiche, il che aiuterebbe anche i pediatri, oltre alle scuole. Un esempio su tutti, il tampone di rientro che molti dirigenti scolastici chiedono anche nel caso non sia arrivata la lettera di quarantena dell'Ausl, andando però a sovraccaricare pediatri e medici di base. Nei prossimi giorni, spiega il presidente regionale di Federfarma Achille Gallina Toschi, è previsto un aggiornamento della normativa. Basterà infatti la lettera della scuola per avere il tampone gratis per gli studenti in farmacia. E dall'inizio dell'epidemia da coronavirus in Emilia Romagna si sono registrati 1.028.770 casi di positività, 15.023 in più rispetto a ieri, su un totale di 50.647 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Complessivamente la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 29%. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell'Emilia Romagna sono 146, un in meno rispetto a ieri. L'età media è di 62,8 anni. Sul totale 91 non sono vaccinati e 62,3% sono, che sono il 62,3%, mentre 55 sono vaccinati con ciclo completo e corrispondono a un'età media di 63,3 anni. L'età media dei nuovi positivi di oggi è di 35,1 anni e la situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 3.502 nuovi casi, seguita da Modena con 1.886, Reggio Emilia 1.646, Ravenna 1.460, Rimini 1.257, Parma 1.168, Cesena 1.076, Ferrara 1.152, Piacenza 837, Forlì 718 e il circondario in Molese con 421. Purtroppo si registrano 39 decessi. Torniamo a parlare della Bolkenstein e delle sue conseguenze sugli stabilimenti baleari romagnoli. I rappresentanti della categoria attendono una chiamata dal governo per poter tornare a discutere dei bandi sulla rassegnazione delle spiagge. Vediamo. Non appena si sarà conclusa la doverosa parentesi istituzionale necessaria a eleggere il nuovo Presidente della Repubblica, ci auguriamo che possa subito riprendere il tavolo di confronto tra governo e associazioni di categoria per risolvere la questione delle concessioni dei maniali marittime. Questo è l'appello che le associazioni balneari lanciano al governo per quanto riguarda il tema della riassegnazione delle spiagge, diventato prepotentemente di attualità dopo che il Consiglio di Stato ha fissato a dicembre 2023 il termine delle concessioni. Altre due stati insomma e poi tutto potrebbe cambiare. Noi ci stiamo battendo perché il governo prenda in mano la situazione velocemente perché è fondamentale per il nostro settore avere delle certezze. Non ci sono imprenditori che possono vivere alla giornata potendo investire e lavorando seriamente. Il tema più urgente è quello della definizione dei bandi che poi stabiliranno come andranno riassegnate le spiagge. Per questo c'è un tavolo aperto con il Ministero del Turismo e con quello dello sviluppo economico. Se noi basiamo l'interesse delle concessioni solo sulla speculazione economica, veramente allora lì apriamo la porta a chi non ha interesse all'accoglienza turistica ma ha l'interesse alla speculazione. Se noi perdiamo questa caratterizzazione rischiamo veramente di rovinare 50 anni, 100 anni di investimenti che le nostre famiglie hanno fatto su quel settore investendo giorno per giorno la propria vita. Altro appuntamento speciale con la vaccinazione per proteggere bambini e ragazzi al secondo Open Day regionale dedicato alla popolazione in età scolastica. Domani, domenica 30 gennaio, da mattina a sera bambini e ragazzi dai 5 ai 19 anni potranno dunque ricevere la somministrazione del vaccino senza prenotazione. Naturalmente alla presenza nel caso dei minorenni di un genitore o di chi ne fa le veci. Rispetto al primo Open Day non solo è garantito almeno un centro vaccinale per ogni città capoluogo ma è aumentato il numero complessivo dei centri aperti che saranno 28 con una presenza significativa anche nelle province. Facciamo il punto sui due importanti cantieri che stanno interessando in questi mesi la città di Cesena, le tre piazze e il viadotto Kennedy. Quest'ultimo dovrebbe terminare a breve, vediamo. Dopo una serie di ritardi e di rinvi che hanno indispettito non poco i cittadini cesenati, in particolar modo quelli che lo usano ogni giorno per spostarsi da una parte all'altra della città, ora sembra essere davvero indirittura d'arrivo il cantiere per la riqualificazione del viadotto Kennedy. Nelle ultime settimane sono state installate le protezioni della carreggiate, quelle laterali, necessarie nel tratto di corrispondenza con la ferrovia e sono stati messi a punto i tubolari che serviranno a separare le due piste ciclabili, una per senso di marcia. Ora alcuni operai stanno lavorando alle modifiche alle pareti esterne che potranno essere completate anche dopo aver dato il via alla circolazione delle auto, mentre altri si stanno occupando di quella che dovrebbe essere l'ultima operazione prima della riapertura del ponte, l'asfaltatura della strada. Dovrebbe mancare ormai poco, il blocco del traffico è fissato fino a lunedì 7 febbraio e dal comune fanno sapere che dovrebbe essere l'ultimo. Tempi lunghi invece per il cantiere delle tre piazze che però per il momento sembra procedere senza troppi intoppi. Nelle ultime settimane è stata liberata una parte di piazza Almerici e ora il grosso dei lavori si è spostato nell'area adiacente alla biblioteca malatestiana. Nel frattempo è arrivata la richiesta di Confcommercio perché il comune coinvolga maggiormente cittadini e imprese nelle decisioni che riguarderanno allestimenti e rifiniture da collocare. Il tutto senza perdere di vista il cronoprogramma. Il termine dei lavori è fissato per la primavera del 2023. Tragico incidente ieri sera nel Ferrarese dove una ragazza è morta a seguito di un tamponamento tra due auto. Si tratta di Federica Lorenzetti, 26 anni, residente a Ostellato. A quanto si apprende la giovane stava viaggiando sulla superstrada per il mare tra Ferrare e Porto Garibaldi e si trovava sul sedile del passeggero quando la sua auto si è scontrata con un altro veicolo. Il mezzo si è capottato ed è finito fuori strada terminando la sua corsa in fondo a una piccola scarpata. L'incidente è avvenuto intorno alle 20. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 assieme ai vigili del fuoco ma per la giovane non c'è stato nulla da fare. Un uomo di 55 anni invece è stato portato all'ospedale con lievi ferite. La polizia di Rimini ha arrestato un cittadino marocchino di 35 anni e residente in città gravamente indiziato per reati di maltrattamenti, violenza sessuale, lesione ai danni della moglie. La donna ha denunciato di essere stata vittima di abusi di vario genere ad opera del marito sin dal 2015. Numerosi sarebbero stati gli episodi in cui la donna sarebbe stata colpita con pugni e schiaffi, insultata, pesantemente minacciata, costretta persino a subire rapporti sessuali, a dover rimanere chiusi in casa senza cellulare in modo tale da non poter incontrare nessuno dei suoi presunti amanti. Inoltre avrebbe dovuto subire il totale disinteresse dell'indagato per la salute e il sostentamento del suo figlio, costretto a vivere in un'abitazione per nulla salubre. Alla luce dei fatti, il GIP ha disposto la custodia cautelare dell'uomo in carcere. Continua la lotta alla cimice asiatica da parte della regione Emilia-Romagna, sia dal punto di vista biologico che dal punto di vista economico, con indennizi alle imprese. Vediamo. La vespa samurai utilizzata per la lotta biologica della cimice asiatica ha superato la stagione invernale e si insedia nel territorio agricolo della regione per riprendere l'attività anche quest'anno, colonizzando circa il 37% delle uova di cimice. Non si ferma la lotta alla cimice asiatica e in Emilia-Romagna gli interventi di contrasto realizzati in questi anni stanno dando buoni risultati. Sul fronte degli aiuti agli agricoltori per i danni ai propri raccolti sono in liquidazione 11,5 milioni di euro di interventi compensativi previsti per il 2022, che si sommano agli 11,5 del 2021 e ai 40 milioni del 2020, per un totale di 60 milioni di euro. Gli indennizi sono un sostegno concreto che abbiamo ottenuto per tutto il comparto colpito da questo dannoso parassita, un aiuto fondamentale che si aggiunge all'impegno regionale col piano di lotta biologica. Ha sottolineato l'assessore regionale all'agricoltura Alessio Mammi. La regione Emilia-Romagna ha reagito all'invasione di questa specie esotica su diversi piani, ha finanziato con appositi bandi l'installazione sulle colture frutticole di reti protettive che rappresentano ad oggi il modo più efficace per ridurre i danni da cimice asiatica. Ha puntato con forza sulla lotta biologica con l'introduzione dell'antagonista naturale, la Vespa Samurai. Lo ha fatto partecipando ad un progetto nazionale di durata triennale, ma la regione ha anche investito sul futuro, finanziando la ricerca scientifica. Nei due anni di attività, 2020 e 2021, in Emilia-Romagna sono stati effettuati complessivamente 400 rilasci di Vespa Samurai, 300 nel primo anno e 100 nel 2021. Il governo ha approvato le modifiche al registro unico delle opposizioni che tra pochi giorni consentirà di bloccare le telefonate da parte degli operatori di telemarketing. Ne abbiamo parlato con il presidente di Adoc, Roberto Tascini. Vediamo. Dopo un'attesa durata anni, potrebbe essere finalmente arrivata la soluzione per chi non ne può più delle continue telefonate sui cellulari da parte di operatori commerciali che propongono ogni genere di servizio e ogni genere di offerta, tutte rigorosamente non richieste. Il governo ha infatti approvato le modifiche al registro unico delle opposizioni, che consente già da tempo di bloccare le chiamate e i numeri fissi, inserendo anche la possibilità di fermare le chiamate verso i cellulari, così come chiedevano da anni le associazioni a difesa dei consumatori. Almeno da quando è stata effettuata la riforma, che risale a quattro anni fa, quindi dal 2018, che era intervenuta proprio per modificare le norme già presenti dal 2010. Questo decreto attuativo, che ha visto l'intervento ovviamente del garante della privacy, consentirà appunto di registrare anche i numeri di cellulare. Servono ancora un paio di passaggi perché la legge sia effettiva. La firma del Presidente della Repubblica è la pubblicazione in gazzetta ufficiale. Dovrebbe essere questione di pochi giorni. Dopodiché, entrando nel portale web del registro unico delle opposizioni, sarà possibile inserire il proprio numero di cellulare per bloccare automaticamente le chiamate indesiderate. Qualora ci dovesse essere qualcuno che ha inserito il proprio numero di cellulare per non ricevere più le telefonate e dovesse continuare a riceverle, di segnalarcelo perché faremo presente questo sia al Ministero e sia al garante della privacy, insomma. Ora parliamo di economia. Sono stati diffusi dalla Camera di Commercio della Romagna i dati relativi alla presenza imprenditoriale straniera nel territorio. Numeri in crescita che sottolineano un netto recupero dopo un 2020 fortemente segnato dalla pandemia. Vediamo. Saldo positivo per le imprese del territorio Romagna, Forlì, Cesene e Rimini. I dati 2021 confermano l'imprenditorialità maggiormente diffusa rispetto al contesto regionale e nazionale. Il saldo delle imprese registrate è risultato positivo e in netto recupero rispetto a quello del 2020. In espansione le imprese attive nel settore delle costruzioni, nel turismo e nelle attività immobiliari. Stabilità per il commercio e il manifatturiero, mentre agricoltura e trasporti si confermano in ridimensionamento. Crescono le imprese attive nei comparti dei servizi alle persone e alle imprese. I dati sulla natalità delle imprese nel 2021 confermano una ripresa delle iscrizioni di nuove imprese. Un dato molto importante e incoraggiante, commenta Roberto Albonetti, segretario generale della Camera di Commercio della Romagna. Le cancellazioni restano ancora mediamente inferiori del 22% rispetto al periodo pre-pandemia. Inoltre, le 3.664 cessazioni di attività rilevate tra gennaio e dicembre 2020 costituiscono il valore più basso negli ultimi dieci anni. Secondo i dati Infocamere e nuove imprese elaborati dalla Camera di Commercio della Romagna, il 31 dicembre del 2021 nel territorio si contano 80.820 imprese registrate, di cui 70.000 attive. L'imprenditorialità si conferma diffusa, 97 imprese attive ogni 1.000 abitanti. Nel corso dell'intero 2021 nelle due province si sono verificate 4.421 iscrizioni e 3.664 cancellazioni, per un saldo positivo di 757 unità. Nel 2020 fu pari a meno 411 unità. Il tasso di crescita annuale delle imprese registrate risulta pertanto pari al più 0,9%, superiore al trend regionale, più 0,8%, e inferiore a quello nazionale, che è di più 1,4%. Sta per calare il sipario sulla quinta edizione di Degni di Nota. Questa sera nel corso della finalissima verrà proclamato il vincitore che si aggiudicherà il videoclip musicale prodotto da Publisole. Andiamo quindi a conoscere i cinque finalisti. Il mio percorso è stato un po' altalenante, nel senso che ci sono stati momenti in cui ho avuto delle difficoltà, momenti meno difficili, però nel complesso mi sono divertita e sono stati impreziosi tutti i consigli che mi sono stati dati dai giudici, è stata una bella esperienza, ho conosciuto persone. Il mio percorso qui potrebbe essere stato leggermente migliore, forse un po' più di leggerezza, un pochino meno di tensione, forse ho scoperto un po' il ritardo che stavo perdendo di vista, il mio vero obiettivo che è cantare e stare bene. Probabilmente per me era un mondo nuovo e come tutte le nuove esperienze io le prendo sempre con molta metodicità e precisione. Dall'inizio del programma fino ad adesso sono contento di come sta riuscendo, anche perché due anni fa quando ero venuto ero meno pronto, ero più piccolo, mentre adesso sento che comunque col tempo sono cresciuto e maturato e sull'aspetto musicale non solo. Dai, speriamo! Dall'inizio di questo percorso mi sento cresciuta, comunque migliorata perché dai i giudici hanno sempre cercato di darci dei consigli molto attenti che potessero ovviamente aiutarci nel nostro percorso e nel nostro cammino. Un altro passo importante nel cammino di Degni di Notte è stato il duetto con Alessandra Beldean, con la quale mi sono trovata benissimo, anche se le prove le abbiamo fatte per telefono, dato un po' la situazione e poi anche la distanza che c'è tra noi. e però dai è stata una grande una grande esibizione secondo me. E ora diamo spazio al Tg Sport. Grazie Francesca per la linea, apriamo la pagina sportiva parlando di calcio. A poche ore dalla sfida contro l'Olbia il mister del Cesena William Viali ha parlato a 360 gradi. Dal mercato in entrata l'analisi dell'ultimo match contro la Viterbese, andiamo a vedere. Dal bilancio sul mercato con gli ultimi innesti di Allievi e Fraizer fino alla condizione della squadra tra recuperi infortunati per poi passare all'analisi dell'ultimo pareggio interno contro la Viterbese, il punto sulla situazione fatto dal mister del Cesena William Viali prima della gara contro l'Olbia. Troviamo una squadra che ha fatto due ottime prestazioni, ha fatto una vittoria importante settimana scorsa, ma è comunque una squadra cambiata rispetto all'andata, ha cambiato qualcosa anche nel modo di giocare. Una squadra che mi piace, ha idee molto chiare, provo a fare la partita, quindi mi aspetto una partita fra due squadre che proveranno a giocare. Siamo pronti anche a dover fare una fase difensiva comunque organizzata, fatta bene, perché troviamo una squadra che ha le idee chiare anche in fase di sviluppo. Chiaro che c'è tanto da fare, Pitalello e Calderoni sono arrivati qualche giorno prima, però l'inserimento sotto l'aspetto empatico e di sensazione è molto positivo, soprattutto da parte loro, sono stati ben impressionati dall'atmosfera che si respira durante il lavoro. Poi per quanto riguarda prettamente le conoscenze, soprattutto loro nei confronti del gruppo, è chiaro ci vorrà un pochino di tempo, ma questo lo sapevamo, è una questione che quando nel mercato di gennaio va sempre considerata, ma fa parte del gioco. Zecca credo che settimana prossima farà un controllo, l'ultimo controllo strumentale per capire se potrà finalmente accelerare fino alla massima condizione. Mulè invece è un percorso un po' più lungo, quindi andiamo di settimana in settimana. Questa mattina è scesa in campo anche la primavera del Cesena che ha battuto per 4 a 0 il Benevento. Andiamo a vedere. Ricomincia l'annata con una vittoria il Cesena primavera di mister Giovanni Ceccarelli dopo il capò di Reggio Calabria nell'ultimo turno del 2021 di campionato. Sotto il sole di Villa Silvia a farne le spese è il Benevento che crolla per 4 a 0 dopo un avvio però promettente. Al sesto i giallorossi sfondano con Malva sulla sinistra, Guerra si perde l'uomo e la conclusione va di poco lontano dalla porta difesa da Pollini. Le streghe prendono spazio in campo. Dopo 5 minuti Veltri cerca il colpo da biliardo, la palla fa la barba al palo. L'occasione più ghiotta dei campani è al ventesimo. Prisco tira fuori dal cilindro una magia ma un super Pollini gli nega l'Euro goal. Passato il triplice spavento, il cavalluccio si scrolla di dosso la ruggine e sfonda. Al ventottesimo Bernardi sulla fascia mancina chiude il triangolo a Carlini. La palla arriva a Cristian Spendi che si accentra e trova il Varco per il vantaggio. La reazione non tarda ad arrivare. Ancora Pollini deve intervenire di pugni sulla conclusione di Sorrentino a 10 dal riposo. Il registro non cambia nella ripresa perché la rovesciata di Bernardi è di poco imprecisa. Poi Steven Spendi, servito da Bernardi, indovina il diagonale che vale il raddoppio. Il trissa nell'aria e matura così la doppietta personale per Steven Spendi con un facile tap-in dopo la conclusione ribattuta da Muraka sul tiro del fratello gemello del bianconero. Ad arrotondare ulteriormente il risultato ci pensa il neo entrato sugli anni al minuto 79 in contropiede. Con questo successo il Cesena sale a quota a 28 punti, sempre a meno uno dalla Lazio capolista del girone B. Cambiamo ora argomento, parliamo di motori. Il Gresini Racing si appresta a vivere un'esperienza a tutto tondo nei campionati di Moto2 e MotoE. Andiamo a vedere. Non hanno fatto mistero di coltivare i propositi di spessore Alessandro Zaccone e Matteo Ferrari. I due piloti riminesi vogliono coronare un percorso di crescita culminato con la Prodo in Moto2 per il primo e con la partecipazione al quarto campionato di fila di MotoE per il secondo. Sappiamo che non sarà facile perché comunque la categoria è molto molto competitiva. Io non conosco le piste extra europee quindi sarà un'ulteriore cosa da imparare. Però questa non è una scusa. Partiamo col nostro obiettivo di imparare il più possibile, prendere più informazioni possibili nelle prime gare. E poi vedremo dove siamo. Ecco, non voglio pormi un obiettivo specifico, un target. È semplicemente quello di apprendere il prima possibile, essere il più veloci possibile e poi vedremo dove siamo. Per Matteo Ferrari l'obiettivo è chiaro, anzi cristallino. Allora, devo dire che la moto quest'anno è molto 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 bella e quando l'ho vista per la prima volta mi sono detto cavolo, quest'anno bisogna vincere. Anche perché ho fatto primo, secondo e terzo quindi è ora di invertire la rotta, anche perché ho capito che mi è piaciuta più la prima esperienza delle altre due. E quindi assolutamente correremo con Fausto nel cuore perché se sono qua è grazie a lui e grazie a tutte le persone che hanno lavorato con me in questi anni e mi hanno fatto crescere. Quindi lo porto sempre con me ed è quella spinta in più che mi fa fare la differenza. È tutto per lo sport. Francesca, a te la linea. E ora spazio alle previsioni meteo. Buonasera a tutti i telespettatori di TR24 e Teleromagna da Andrea Raggini. La giornata di domenica inizierà con il sole su buona parte della nostra regione. Tuttavia qualche nebbia potrebbe interessare le pianure nord-orientali. Nuvolosità poi in aumento sull'Appennino Emiliano, schiarite sul resto della nostra regione. Temperature minime che oscilleranno tra 0 e più 5 gradi, valori massimi in aumento, compresi generalmente tra 9 e più 12 gradi. Per questo appuntamento è tutto. Buona serata da Andrea Raggini. E anche per oggi è davvero tutto. Io vi ricordo l'appuntamento con Degni di Notte alle ore 21. Arrivederci tutti. Buona serata. SIC Società Italtecnica Cesena Da 30 anni specializzate in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC e a Cesena zona industriale Pieve Sestina Infotech, con un'esperienza ultradecennale nella consulenza e nello sviluppo di servizi informatici, è HP Platinum Partner. Infotech, da sempre, propone tecnologie innovative in ambito server e storage, workstation e PC, garantendo un servizio di assistenza tecnico-sistemistica rapido e affidabile. Infotech propone l'ufficio efficiente e-green. Affidati a noi installando le nuove multifunzioni HP PageWide a zero emissioni di polveri sottili. Mettiti comodo. Infotech troverà la soluzione giusta per te. www.infotech.it Frigoriferi industriali. Soluzioni all'avanguardia. Nella refrigerazione industriale.